Cari ragazzi, per la dodicesima volta nella sua storia, dodicesima, la Juventus è campione d'Italia, campione della Coppa Italia, e getta appunto le basi verso il triplete. Lo so, può sembrare una ufata bella e buona, ma è la pure realtà. Il sogno triplete è sempre più concreto. Vuoi o non vuoi, questa è la verità. Mi aspettavo di più dalla Lazio, ma queste sono delle classiche domande che poi ci poniamo. Di certo la Lazio vista nel primo tempo mi è sembrata troppo modesta, però mi viene da chiedere, no? Ma sono le squadre che giocano contro la Juventus a non essere all'altezza e quindi ad avere grossi demeriti? O è la Juventus la forza della Juve ad essere superiore alle altre squadre? Boh, fatemelo sapere sotto nei commenti, perché io onestamente non trovo pace, non trovo risposta. Di sicuro la Juventus è una squadra cinica davanti, e di sicuro è una squadra solida dietro. Perché? Perché come al solito non prende gol, anche quest'oggi 2-0 è a casa, e come al solito se non è alla prima occasione sarà alla seconda, ma te la butta dentro, vuoi o non vuoi, fa gol. E questa la dice lunga, questa la dice veramente lunga. Quindi per me, mai come quest'anno la Juventus è completa, mai come quest'anno, meriterà sicuramente di alzare la coppa. Ennesima, ennesima gufata. Però, però, però. Io ci provo nel senso che, interi sta come sono, è normale provarci, però veramente sarà dura. Sarà dura perché questi tifosi juventini, poi chi li sente. Però, devo aggiungere anche che si meritano la posizione che occupano, sia in campionato, sia in ambito europeo. Assolutamente. Assolutamente. Se devo dare un elogio a qualche giocatore in particolare, quest'oggi lo faccio a Dani Alves, grandissimo giocatore, grandissima qualità, grandissima tecnica, grandissima giocata balistica, la sua, per quanto riguarda il primo gol, un piattone bello a incrociare che ho gradito, ho gradito sportivamente, calcisticamente parlando, da sportivo. Per quanto, invece, riguarda la Lazio, salverei Anderson, che è entrato nel secondo tempo, forse Milinkovic e Savic, ma non altri, non altri giocatori in questo momento, non mi viene in mente altro. E' un giocatore, invece, che mi ha indispettito, che veramente mi ha nauseato, è stato immobile. Un giocatore che non ha toccato palla, un giocatore veramente insulso, sì, veramente vacuo, male, 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 immobile. Penso che se sono questi i giocatori su cui l'Italia di Ventura si fonda, si basa, siamo messi maluccio, siamo messi maluccio perché immobile, almeno quello visto stasera, è poca roba, perché non ha toccato una palla e da un attaccante che ha siglato, non ricordo se 16 o quanti gol, mi aspetto, mi aspetto di più, mi aspetto di più. Ma, per il resto, la Lazio, dopo un primo tempo, veramente inguardabile, nel secondo tempo, piccola reazione, ma il gol non l'ha trovato. Mai, mai, una squadra contro la Juve trova il gol e ci sarà un motivo. Comunque, complimenti alla Juve, complimenti per questo trofeo, il primo dell'anno 2016-2017 e non credo sia l'ultimo, assolutamente. Per cui, complimenti a loro, complimenti ai campioni d'Italia. Un abbraccio da Neschi. Grazie a tutti.